Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Nia Replica E' una missione super importante, non puoi dormire nel regno, cosa se cacciate un freddo? Inoltre, mi piace campare con Kainé, a volte sentiamo al freddo e diciamo storie, o ricordiamo... Un cibo, è sufficiente, ho un'immagine per mantenere E qua non è che c'è qualcosa, è un cazzo ma risposto, proprio un cazzo cazzo Ecco qua, andiamo qui Ecco, come al solito ci sono 2 milioni di strade e non so quale cazzo prendere Qui c'è un albero, qui c'è un posto, qui c'è una cassa Che ovviamente mi dà l'erba antidoto, l'antidoto che mi serve un cazzo Allora, mi sembra di ricordarmi sto poco, è simile a quello là che abbiamo visto Ho casse Vote Mi sembra più che giusto Vedete, è uguale a quel posto, non so se lo sia lo stesso Però, adesso pure un attimo di Indrio Che qua? Qua sicuramente permetterà di andare qua, non lo so Vediamo Qualcato la risposta Quindi non lo so Sto pensando eh, perchè dovete capire a che scopo è sto coso Non posso Quindi solo avanti Indrio e fino a qua Non riesco a capire lo scopo, almeno che dopo non possa Mi sembra tanto strano, non c'è un cazzo comunque qua Allora, proviamo eh, perchè tanto qualcosa servirà Ok, vediamo un po' No, non ci arrivo No, non ci arrivo Sinceramente sono un po' confuso, però Questo muro si rompe Non cazzo mi ha risposto Vabbè Niente, andiamo di qua Ci sono delle casse vuote Mi sembra giusto mettere delle casse vuote, no? Non mi dire che sono trovati indietro No, mi ha semplicemente esponato di nuovo qua Sì, esatto Mi fa tanto piacere Vabbè Vabbè, qui non ho capito un cazzo quello di come andare E' perchè non posso andare avanti e indietro Solo qui Vabbè Va bene, andiamo avanti Inutile di stare a perdere tempo Chi è che mi da Quelle scosse strane Ok, questa Abbiamo detto che Dovevo metterla qua Perfetto Fatemi vedere C'è qualcos'altro, no? Ok E' una medicinale E' un po' un limite Massimo 10 Per carità, non è che Se ne servono effettivamente così tante Mettere un limite così assurdo Non c'è un cazzo Sto cercando di capire Ok Ok Siamo spaccati in mano Scusatela Non l'aspettavo Un po' così Accollato Scusate Allora, ho preso Basil Arti marziali e falsa fisica più 15% Non è malo Parole Armi e potenza attacca più 20% Ma scusate eh Scusatela Allora Arti marziali 15% Perfetto Questo so che a lungo non c'è niente Questa so che a lungo non c'è niente Allora, il 15% mi interessa E poi In armi E' Raffael All Ok, 20% Perfetto Siamo a posto Scusate che ci sono Ecco qua Questa è Scusate Mirti di più che abbiamo scusa per chiedere se potremo potenziare un giorno sarà una cosa molto più gradita io dove devo andare esattamente dove sono sceso più che altro mi sembra da qua sono un po' interdetto ho capito adesso dove siamo complimenti e sveglio proprio tantissimo ce la fai? ce la posso fare? sono sicuro che ce la faccio ce l'ho fatta prima voglio la mamma perché non mi fai andare adesso? ok ce l'ho fatta allora torniamo sopra poi abbiamo detto che dovevamo andare sono scordato assolutamente qua di sotto qua di sotto e adesso c'è solo una strada qui abbiamo salvato e crociamo le dita più di così in bosta panico ci sarà già trema tutto dopo ci mettiamo a farle qua secondarie salve lei è? molto simpatico questo posto che andiamo a volare che abbiamo preso il tamo ce n'erano due vuol essere un po' veramente sarà morto ci sono creature della scuola ok ho fatto una caccata da panico ok adesso lo che metterò non ti preoccupare che adesso ti massacro tutti sei immune alla magia c'è solo la barriera e adesso piano piano faremo mettiamoci in un posto sicuro è sicuro che ci vengano allora dai facciamo delle belle strade oh cazzo ho fatto una bella schivata eh ok dobbiamo più mattare tutti i suoi add poi arrivare a venire a lui il boom ok vai vai meno meno forte 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 cazzarola cioè non ci ho fatto un cazzo eh però ok vai 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 lì è più di muota fino all'ultimo ok la bella sarà nata eh bravo eh l'ho sentita eh non penso salve molto bello lei ah non me l'ha dato maledizione vai questo che a me è però eh guardate la camera ok vai 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 che ce la facciamo combo da panico l'ha fatta lui l'ho fatta io aspetti un attimo vai perfetto il noto mi riesce a sentire tantico le botte ecco qua cazzo cazzo come ha fatto a prenderla che è così zina che insomma eh abbiamo visto dacci un attimo che lo riempio di botte questo babbione qui vai vai ci a fatta la dolce è è la nostra amica no c'è un pane qui a te nel cuore no Kainé molto sì Kainé Kainé che è successo signorina dove cavolo è andata salve lei è molto stanza fantastico non vedevo l'ora che miserica e adesso che cosa facciamo io contro la battaglietta non abbiamo un'altra scuola abbiamo un'altra scuola ok ma è una roba versa vai vai è meglio là ok una vera amicizia l'attivamento and keep going because of you I'm weak and I'm sad and I'm lonely but you make me strong you're my friend and I need you so don't you dare leave me all right all right stop crying thanks I'm all right E cosa è questo? Fantastico, molto gentilo è stato Ma manca molti pezzi La legge della robotica Guardate il pioniere Sembra tutti i luocchi Ci sono tutti posti Il fedele cerbero Ho stato posto Questo fragmento è chiamato La guardia Sì A mamma voi C'è anche lei La mamma voi Ok Vedete quando vi dicevo Che il cumulo di Ciappame Era da fare una questa Ok Vediamo un pochino Vai il cumulo di Ciappame Mi sembra giusto Esatto È quello che volevo fare io Perché era andato Non c'era nessuno E quindi non sapevo Come farcele C'era il viaggio rapido C'è tanta gente Che ha tante quest Vediamo cosa mi dicono Ma Con un ponte in pericolo Puoi passare Dovrebbe essere qua Questo mostrico Vediamo un po' Facciamo una prima Sintenzionale Ciappame lì Ok Ah vedete che Ciappame lì Vedete il miti Nido Ce la posso fare Dai Vai Vai Perfetto Almeno così Dai Molto meglio Si usa con le armi Tasso di rilascio Oggetti più 8% Mi piace tanto Aumentiamo questo tasso di rilascio Costa più o meno 10% Mi piace ancora di più Perfetto Ah ce ne sono altri Ok Moliteci Moliteci Non ci faccio fatica Insomma Fate vedere Questo tasso di rilascio Tutte cose qui In armi O Ricordo già più Tasso di rilascio Tasso di rilascio Era questo Però forse era Nelle Magie Se mi ricordo Se è negli incantesimi Non ci posso fare niente Ripristino Tasso di pristino PM Difesa fisica Difesa fisica Mi sembra che Avesse si fa qualcosa di meglio Un cazzo Questo è Difesa fisica All'altro è la forza fisica Scusate 12 Ok Perfetto Almeno questo Poi l'altro ci guarderò Allora Vediamo cosa c'è Il mostro Vicino al ponte E' qua Vediamo se è vero Il ponte Il mostro Deve compare Scupare Io sono qua Adesso Dovrebbe comparire Perfetto Ok A meno che non sia l'altro Ponte C'è qualcosa La giù Fatemi vedere Va Fatemi vedere Vai vai Andate tutti Lui ci serve Ma lei non ci aiuta mai Adesso gli do gli ordini A lei Oh c'è C'è che era morto Ok Ok Adesso gli do gli ordini Perché non sta facendo un cazzo Allora Ordini Ah ok Emile Emile dammi la mano Poi Cain Aiutami Vediamo se fa qualcosa Perché insomma Non saprei Altrimenti Allora Devo capire Assolutamente Dove Sta questa Che non ho mica capito Adesso ci guardo Ci salutiamo Se non la trovo Ci salutiamo Direttamente La forza dell'episodio La faccio vedere E' pochino più difficile Poi ce la facciamo Ok Di almeno Devo a posto Devo vedere quanto manca più livellare Perché Ci manca poco Grazie a te Grazie a presentare Perfetto Allora Fatemi vedere quanto manca più livellare Chi ha Ah c'è Adesso C'è un po' di cose in più Stato Ci manca sempre un casino È incredibile Abbiamo mattato un boss Abbiamo fatto un sacco Di cose Non è che siamo stati livellati Eh siamo livellati Non me ne ho accorto Siamo a livello 21 Mi sembrava strano Livello 21 Già meglio Facciamo 133 di attacco Ok Adesso lo meglio Adesso capisco E qui siamo vicini ai cumuli Allora Devo guardare la quarta Che non la capisco Se no Missioni Allora Stabilizzati Stabilizzati La Lombardi Nella pianura Settenzionale Ok Pianura Settenzionale Noi siamo Pianura Settenzionale Non me la fai vedere Eh la pappa Pianura Settenzionale Che non vedo Vabbè dopo ci do Un'occhiata meglio Perché devo capire bene Perché Ci capisce un cazzo Quindi vabbè Adesso ci possiamo salutare Tanto l'avevo fatto tutto quanto Come al solito Vi invito A lasciare un like Com'è se mi piace A se di farmi sapere A proprio cosa le passate Com'è se vi do Suo prossima Ciao ciao